Ti vedi di una persona che sa ascoltare e capire gli altri, punto di domanda... No, adesso qua rivalutiamo il cazzo, però... Con chi? Con le persone che conosci? Con gli amici? O con gli amici di coglioni? C'è scritto? No. Come promesso sperimentiamo cose veramente diverse sul canale questa volta. Cliccate subito se volete vedere il video. Cosa aspettate? Sorprese, libidine e cose che sì, insomma, guardate il video.